fare l'agricoltore hai imparato l'arte dell'arrangiarti proprio il classico spago leghi e finisci il lavoro eccoci benvenuti nella quinta puntata di umano siamo arrivati alla seconda stagione e questo è il podcast che vi parla di persone che hanno realizzato il lavoro dei propri sogni oppure accanto ad un lavoro apparentemente normale hanno deciso di realizzare qualcosa di straordinario oggi parliamo invece di una storia abbastanza particolare che mi ha incuriosito molto e per quindi e quindi ho chiamato qui con noi pietro poggio ciao pietro come stai ciao tutto bene molto bene ma quindi spiegaci un pochettino se vuoi fare un sunto di quello che fai nella vita io sono pietro ho 29 anni e faccio l'agricoltore non siamo ancora nella sedia di 30 parlavamo prima delle camere spente facendo l'agricoltore ne senti 35 quindi ok però allora io sono totalmente ignorante in materia e quindi stasera devi aiutarmi a capire un po cosa vuol dire nel senso che io vedo ti seguo spesso sui social e vedo per esempio che tu hai sia gli animali ok e una parte di coltivazione ok e cosa allora noi abbiamo una un'azienda familiare ok dove prevalentemente alleviamo bovini da carne ok e qua scattiamo l'anima degli animalisti esatto bovini da carne suini ovini e ci occupiamo anche negli ultimi due anni di viticoltura ok abbiamo un piccolo vigneto in un paese vicino a bergamo a chiuduno dove coltiviamo 5.000 metri di vite ultimamente dall'anno scorso abbiamo anche 300 piante di olive quindi proviamo a spaziare un po' lappertutto ok quindi è una produzione abbastanza varia quindi c'è una parte di animali e una parte invece di proprio di abbiamo scelto proprio essendo una piccola azienda abbiamo preferito invece che come le grandi aziende della bassa bergamasca che si occupano tutto di fare magari di produzione di latte con 400 500 mille bacche da latte noi abbiamo preferito una produzione più varia più nel piccolo con meno capi però più molto più varia anche per il fine di questi prodotti noi avendo l'agriturismo preferiamo avere una produzione più varia di prodotti che va dal vino all'olio ai salumi ok infatti lì dove c'è volevo poi chiederti ti chiederò tra un attimo di parlarmi anche dell'altro aspetto quello dell'agriturismo ma invece volevo fare un passo indietro e chiederti una cosa che in realtà mi è sempre incuriosito è come si arriva a fare il tuo mestiere o meglio come ci sei arrivato tu cioè io mi immagino appunto mi metto esattamente nei tuoi panni dato che abbiamo le stesse età posso farlo si parte da dagli anni dal lontano 2002 ok nel senso è un lavoro che hai scelto ok mi dici quell'azienda appunto di famiglia spiegami un attimo allora si parte dal lontano 2002 gita la cascina buona speranza di zanica che non so neanche se c'è più e io scrivevo in un tema da grande vorrei avere una fattoria con le mucche i cavalli il trattore e la motosega strabello ce l'ho documentato eh sì sì e questo tema è tutto io dico che la mia storia parte da lì la mia storia agricola parte da lì e piano piano devi avere la fortuna per fare quel lavoro qua devi avere la fortuna di avere parenti eh che lo fanno già perci che di partire proprio con una mano ok perché allora io facevo le mie ferie in Liguria da mia nonna in un paesino un piccolo paesino da Liguria eh dove tutti i parenti avevano mucche coltivavano le patate coltivavano qualsiasi cosa e quindi io d'estate andavo a aiutare da piccolino per quel poco io potevo aiutare andavo a aiutare questi signori no? e sai d'estate sotto il sole comunque comincia a farti una certa pelle perché per fare quel lavoro qua ci vuole una certa pelle finché poi diventi grande e tenti la carriera scolastica che poi mi hanno detto sei troppo bravo non tornarci più e sai già tutto a posto così ho io la fortuna a Bergamo di avere uno zio che l'ha sempre avuta che è la stessa azienda agricola che adesso portiamo avanti noi con le mie cugine e quindi io invece che studiare fare quello che dovevo fare andavo a rastrellare il fieno tagliare l'erba e lì ho capito che preferivo la fatica di lavorare sotto il cosiddetto rebattone ok certo preferivo la fatica piuttosto che magari come preferiscono tanti giovani adesso che studiare piuttosto che lavorare è un mestiere che deve piacerti per forza non ci sono soldi che tengono in questo mestiere qua perché tu hai quattro capi che sono le quattro stagioni e sono loro che decidono l'orario sai quando inizi non sai mai quando finisci in questo lavoro vedi stasera ti deve piacere per forza devi voler bene agli animali devi voler bene alla terra devi avere tanta 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 pazienza perché non si arriva subito i frutti non arrivano subito cioè noi piantiamo 300 piante di olive come dicevo le ho piantate due anni fa l'anno scorso non mi ricordo bene però io frutti li vedo tra 5 6 7 anni è una cosa lenta che tanti giovani magari adesso mollerebbero subito perché non arriva tutto il guadagno non arriva subito detto in parole poveri anche solo l'allevamento delle mucche per fare dal vitello arrivare alla mucca pronta a macello ci vogliono 3 anni 4 anni e quindi magari soprattutto per un giovane che giustamente ha fame di soldi perché si lavora anche per quello non si lavora solo per la passione del lavoro ma anche per vivere certo è chiaro perché tutti abbiamo fame tutti vogliamo mangiare quindi e magari arrivare a un risultato ci metti molto tempo quindi il fatto di avere di fare magari un investimento iniziale però poi ci vuole un bel po' prima di riuscire a questo lavoro è arrivato dopo oltre a quel lavoro qua fai altri milioni di lavori ok insieme a quello cioè nel senso hai iniziato questa chiamiamola carriera questa tua attività ma accanto ci mettevi altri milioni e miliardi di lavori perché giustamente non è una cosa che arriva subito ok mi dicevi appunto che invece è un'azienda familiare nel senso che l'ha fondata tuo zio sì e poi invece voi l'avete adesso continuiamo io con le mie due cugine uno si occupa una si occupa dell'agriturismo della parte del mangiare diciamo e del dormire ok e l'altra si occuperà perché siamo verso la fine della costruzione della spa ok quindi avete poi spostato una parte della produzione di quella che è l'azienda agricola anche invece su un qualcosa di più chiamiamolo fisso che è invece l'agriturismo e l'agriturismo invece quindi non c'è sempre stato no no quindi è nata prima l'agriturismo c'è dal 2018 ok quindi ha cinque anni sì e questo agriturismo tra l'altro come si chiama così tanto si chiama agriturismo la sole del parco perché siamo ai piedi del parco dei colli di Bergamo che è un parco protetto dove senza loro permesso non puoi toccare un albero una pietra quindi lì si aumenta la difficoltà nel lavorare perché per fare solo la stalla per fare l'agriturismo invece che due anni di permessi ce ne vogliono cinque certo e se ha tutta la parte burocratica allora da aggiungere a quella normale chiaramente quella ti spacca sì sì chiaro è difficile però in sé come lavoro non deve non è mai deve piacerti tu devi alzarti la mattina e dire oh voglio andare a lavorare perché se non è così puoi stare tranquillo che quel lavoro qua puoi anche evitare di farlo ok e invece appunto mi dicevi siete partiti poi nel 2018 con l'agriturismo ma siete già partiti con l'idea che cioè avevate già il progetto di fare una parte dicevi di camere una parte di ristorazione una parte di oppure sono cose che man mano sono idee che sono venute col tempo tutto è nato azienda agricola per forza come da legge dice prima fai l'azienda agricola poi puoi far l'agriturismo ah ok questo non lo avevo c'è tutto un sistema di leggi dietro che è giusto così perché loro ti dicono sì tu puoi fare l'agriturismo ma hai dei prodotti da vendere certo devi avere una parte di produzione tua ok e quindi è venuto tutto seguendo tutto un percorso soprattutto con l'entrata nella società della prima cugina che è quella che segue l'agriturismo e quindi avevamo una mano in più una persona in più che vuol dire tanto quello che volevo chiederti perché più sei meglio siamo in tre noi più vari dipendenti ok più però che lavorano lavoratori attivi siamo in tre praticamente ok poi in periodi x vengono chiesti sì 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 giustamente abbiamo il fuoco abbiamo il lavapiatti certo tutta gente che serve che senza di loro non vai avanti certo perché puoi correre quanto vuoi ma dopo un po' sei pieno non vai da nessuna parte è entrata mia cugina siamo andati avanti piano piano e poi sono partiti gli altri progetti sì perché anche lì la spa sì ti facciamo fare la spa ma perché metti la spa? perché abbiamo messo 200 piante di lavanda ok e quindi facciamo l'olio senza la lavanda se no tu la spa non la apri a qualsiasi quindi ogni cosa che tu apri quindi dal ristorante prima la spa adesso è tutto sempre deve sempre ritornare a un c'è la legge del 30 30 30 che adesso è cambiata non mi ricordo bene le percentuali praticamente sono 30% prodotti tuoi 30% prodotti che compri da altre aziende agricole e 30% prodotti esterni che sono ad esempio lo zucchero la farina quelle robe lì quello che non produce nessuno allora lo puoi andare a prendere fuori ok 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 che storia era una cosa che non sapevo c'è un mondo dietro certo ma tipo per informarsi su queste cose qua è una cosa che ci sono due associazioni che è la col diretti e la l'unione agricoltori ok quindi a loro puoi puoi chiedere e varie consulenze per capire come muoversi in questo mondo ti consigliano ti indirizzano cosa fare cosa non fare soprattutto la col diretti dei primi dei primi passi per un piccolo agricoltore non guardare magari noi che già siamo con un agriturismo più strutturati certo però un piccolo agricoltore che inizia con 10 mucche ha bisogno di un'informazione ha bisogno di capire se può farlo se può mollare l'altro lavoro e continuare a comunque va a parlare con queste associazioni che c'è gente molto disponibile ti aiuta e ti dà anche dei consigli cioè aggiungi una mucca togli una mucca certo una cosa pratica certo sì sì cose proprio molto pratiche che possono poi aiutarti a entrare in alcuni parametri magari per certo 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 e invece quando è che hai capito che oppure quando è che c'è stata la soddisfazione immagino di lasciare diciamo gli altri 5.000 lavori che dicevi facevi e poi hai detto ok adesso finalmente posso fare soltanto l'agricoltore allora ufficialmente ufficialmente due anni fa due tre anni fa e hai iniziato invece ho iniziato all'età di 16 anni ok quindi mi sono passati un bel po' di anni prima di arrivare no è per far capire no ti dicevo prima è un po' il motivo del podcast è quello anche di far capire si dà ispirazione alle persone su su un percorso generale ma anche su un percorso specifico quindi uno che sente la tua puntata dice ok devo già mettere in conto che se ho questo desiderio e questo sogno ci vorrà del tempo tanta pazienza e ci vorrà tanto però è importante questa cosa ok e dopo un po' appunto hai capito che si poteva fare si perché me ne sono accorto allora tu lavori sempre e sempre facendo mille lavori parti la mattina arrivi la sera e quindi non capisci bene cosa sta succedendo la luce del sole è sera è giorno e non accorgi perché tu vedi il tramonto dalla stalla e vedi l'alba dalla stalla ok le riesci a vedere tutte e due allora lì capisci io faccio l'agricoltore ufficialmente infatti volevo chiederti ma una tua giornata tipo qual è per esempio io non ti saprei di scrivere una mia ma tu hai una giornata tipo oppure almeno un'idea perché sennò l'idea c'è più o meno però il bello di questo lavoro è che non hai una giornata tipo ok cioè io sono uno che si stanca facilmente delle cose e un lavoro così che continua a cambiare continua cambia da stagione a stagione di giorno in giorno da lavoro a lavoro continua a cambiare ti tiene sempre attivo non ti fa mai annoiare in in linee guida la mia giornata tipo è ti alzi dai da mangiare agli animali quindi ti occupi di tutto quello che riguarda gli animali mais pieno tipo lì scusami non te l'ho chiesto ma a che ora per esempio ti alzi allora noi fortunatamente non facendo latte non abbiamo gli orari ok di quelli delle mucche da latte perché c'è una grande differenza sì la mucca da latte va munta ogni 12 ore quindi quindi poi va lavorato il formaggio va lavorato il latte per fare il formaggio quindi partono anche 4 e mezza 3 sono una bella vitaccia quella della appunto dalle 4 poi avranno la muccazione delle 16 e poi ancora e poi c'è tutto il certo e di mezzo c'è tutta la lavorazione ok comunque la mia giornata tipo indicativamente ti alzi ti occupi degli animali quindi dai da mangiare gli animali metti fuori al pascolo gli animali che vanno fuori al pascolo sposti i recinti che vanno spostati e poi cambia da stagione a stagione d'inverno c'è ad esempio il lavoro più frequente è la legna perché nel nostro agriturismo non arriva il metano quindi dobbiamo andare tutto a legna ok dall'acqua calda al riscaldamento va tutto a legna d'estate può essere il fieno e poi c'è tutti i lavori di manutenzione dalle macchine alle strade all'illuminazione al giardino ai lavori di manutenzione nell'agriturismo proprio fisico che la cucina i bagni che si rompono perché è come tutto si rompe tutto e sempre quando non si deve rompere quello è un classico puntualmente io le gomme le foro al sabato mattina quando c'è tutto chiuso quindi ti va bene ancora il sabato che magari qualcuno lo becchi se fosse proprio la domenica devi arrangiarti esatto sei pregato a fare l'agricoltore hai imparato l'arte dell'arrangiarti proprio il classico spago leghi e finisci il lavoro ok in questo caso qua per esempio quindi tutta anche la parte dell'agriturismo che magari non gestisci tu diciamo la parte dei clienti però ti assorbe comunque tutta la parte invece della manutenzione tutta la parte proprio della gestione è tutta tua sì ok non ti è mai capitato qualche situazione assurda rispetto a magari qualche cosa che stavo per andare a casa e invece è successo qualcosa sì situazioni assurde succedono sempre perché puntualmente domenica stai per andare via si rompe il lavandino il bagno questo un mese fa sono tutte cose che succedono sempre soprattutto quando ha a che fare con le persone oppure anche queste cose qua succedono anche nella stalla perché tu fai il fieno l'estate sei col trattore dalla mattina fino alla sera alle 10 finalmente spegni il trattore puntualmente cosa c'è? vitello scappato quindi corri rincorri il vitello vai a recuperartelo e quando sei stanco poi lì dicevo la passione perché non puoi dire lascio lì vado via e faccio domani la passione è anche quello di dire devo metterlo via perché fuori si potrebbe far male perché fuori potrebbe spaventarsi potrebbe correre chissà dove e quindi tiri insieme le ultime forze che hai e cerchi di chiuderlo è un po' è un lavoro così purtroppo purtroppo per fortuna dipende ok infatti quella cosa che volevo chiederti anche ci sarà un sacco di fatica dietro a questo lavoro come ci stai dicendo ma qual è nel senso qualcuna soddisfazione che tu dici che hai detto in questi anni di questa cosa sono proprio contentissimo allora è un po' come il sogno della tua vita io non dico che l'ho già realizzato perché sono come scrivevo in seconda elementare sono riuscito a arrivarci e non c'è proprio una realizzazione propria in queste cose qua però sei molto contento perché ti fermi ogni tanto bisogna anche fermarsi guardarsi indietro e dire cosa ho fatto cosa siamo riusciti a fare in questi anni giri guardi la stalla guardi i pezzi di stalla nuovi animali arrivati in più sei partito con 10 animali sei a 20 ad esempio l'altra mattina arrivo in stalla c'era un agnello in più sono cose che ti portano a dire hai lavorato bene deve essere animale se l'animale sta bene l'animale prolifera se l'animale sta bene vuol dire che tu hai lavorato molto bene e quindi quelle sono soddisfazioni personali certo immagino anche il fatto e poi un'altra cosa che mi sono invece sempre chiesto è ci sono delle cose dei lavori delle mansioni come dici tu alcune cose ti arrangi ma alcune cose tipo è nato un agnello in più e adesso cosa fai c'è nel senso non ho proprio idea di come si possa gestire una roba del genere allora con le pecore non è un problema perché comunque all'argo il recinto si arrangiano da sole con le mucche è più difficile perché nasce un vitello nasce puntualmente di notte e quindi devi chiamare il veterinario il tuo obiettivo ti vicino al sì per fortuna e soprattutto facciamo pochissime nascite quindi abbiamo questa fortuna che non abbiamo così tanti problemi ok però ad esempio succede l'anno scorso maggio dell'anno scorso andiamo alla sera andiamo a arrampicare torniamo ad arrampicare e così per non so quale motivo io dico va che faccio un giro in stalla ogni tanto succede che spesso sai torni tipo stasera torni invece di tornare a casa fai il giro lungo passi dalla stalla arriviamo alla stalla aneddoto molto divertente perché la domenica quella vacca lì dovevamo macellarla arriviamo scendo dalla macchina la vacca che dovevamo macellare la domenica sta partorendo e quindi chiama il veterinario noi non sapevamo fosse incinta e comprata così quindi non sapevamo niente e chiama il veterinario tiralo fuori ma per esempio il veterinario è sempre disponibile nel senso cioè è abituato a queste situazioni lo sa che il mio veterinario ha 100 mucche quindi non ha problemi lo sa lui che deve essere sono disponibili 24 ore su 24 sono costretti a essere reperibili sì sì anche solo per queste situazioni qua anche perché partoriscono sempre nei momenti scomodi quindi loro devono essere 31 di dicembre 24 di dicembre sempre di notte soprattutto di comodo il fatto che che siano sempre sei la vigile di Natale e puntualmente squilla il telefono mi scusi dottore dovrebbe venire gentilmente che storia matta ma invece progetti futuri su questo sul tuo lavoro diciamo su quello che è il tuo mondo allora sicuramente mi piacerebbe raddoppiare il greggio di pecore quanti ne hai oggi tra l'altro non te ne ho neanche chiesto una trentina 31 con l'altro ieri quello dell'altro giorno e vediamo l'agricampeggio cos'è l'agricampeggio? il campeggio agricolo praticamente che storia non ho mai sentito parlare racconta allora l'agriturismo è il ristorante agricolo l'agricampeggio è il campeggio cioè fai un'area si spera ma sia le tende sia le tende che il camper che storia guarda e devi sempre inserirlo nel mondo nel mondo agricolo perché io penso che uno va in ferie ha bisogno di rilassarsi io oramai due anni da quando lo faccio ufficialmente faccio solo quello che io sono rilassato non ho non è vero sono però hai la testa rilassata diciamola così sei stanco corri lavori come un dannato però hai la testa libera hai la testa rilassata e quindi io quando voglio andare in ferie voglio essere rilassato io voglio che chi viene in ferie da me viene in ferie da noi abbia la mia stessa testa deve aprire la finestra la mattina sentire il profumo della natura essere lontano dai rumori non riuscire a dormire per il troppo silenzio perché succede molto da noi queste cose qua oppure essere svegliato dalla civetta cosa che in città penso sia impossibile certo certo e sono cose che ci piace trasmettere ai nostri i nostri clienti quello che proviamo noi cercare di farlo provare anche a loro certo io Pietro ti auguro tantissimo di arrivare a questo nuovo nuovo obiettivo e tra l'altro invece ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi in questa puntata vi ricordo che questa puntata potete guardarla su youtube potete sentirla ascoltarla su spotify apple podcast e vi lasciamo chiaramente tutti i link tutte le varie i vari contatti di Pietro e vi lasciamo tutti sotto questa puntata e noi ci vediamo in una prossima puntata di umano Pietro grazie ancora è stato un super piacere grazie mille ciao